Salvatorelli, questa vastesa è proseguire il silenzio stampa soprattutto dopo questo risultato negativo nel derby contro il San Salvo, la dirigenza cosa pensa di fare e come sta reagendo? Certamente è un risultato che non ci aspettavamo, è venuto così dopo 5 minuti dall'inizio, siamo andati sotto di un gol, non siamo riusciti a mettere la partita nel lato giusto, logicamente a questo punto la società dopo aver cambiato la guida tecnica pensando, crede che si sistemava qualcosa, forse manca grinta, adesso prenderemo un provvedimento che sarà quello di parlare con i ragazzi sotto un altro tono, sotto un altro punto di vista, noi come vastesa non ci possiamo permettere di fare un campionato così, di lottare fine classifica e metà classifica, quindi adesso prenderemo provvedimenti in merito a questo risultato che è scaturito oggi e poi tireremo le conseguenze, chi ha le proprie colpe si prende le proprie responsabilità, probabilmente anche forse non occorreva dentro questa settimana far arrivare un'altra punta, forse ci voleva un giocatore su un altro ruolo, quindi ognuno si possa prendere le proprie responsabilità, perché se poi i gol non li prendiamo può darsi che qualcuno li facciamo, ma se prendiamo tre gol al primo tempo si chiude 3-0, quindi c'è qualcosa che non va.